che cazzo però vabbè sorry raga comunque gli avevo chiesto a max se ne sapeva qualcosa d'esta situazione appunto fedez pia medevo e mi stava a dire appunto che era rimasto a quando erano tutte una gang che spaccavano tutti de musica de web de cose varie e si erano uniti ai tempi appunto del disco de fedez e ax e video di senza pagare poi praticamente che è successo dimmi dimmi il periodo in cui nel game del rap c'era c'erano le due coppie contrapposte fedez ax e la coppia marra gue tra comunistico rolex santeria sono stati il dominio di quella stagione fai conto che l'altra sera hanno fatto una serata dedicata ai dissing e ci siamo resi conto che questo dissing qua è l'unico dissing della storia del rap italiano che è stato trattato in televisione cioè che loro hanno preso il tapiro per sto dissing cioè striscia la notizia mentre pure quello fibra vacca che è molto più enorme magari visto dall'interno non è mai arrivato un tv sai perché probabilmente perché la portata dei coinvolti era veramente enorme rispetto a tutto il resto perché comunque erano coinvolte quattro persone ed erano i top quattro del gioco e poi va va che fibra era prima delle stories prima dei spotify cioè un'altra è poi comunque la ip che aveva fibra era clamoroso rispetto comunque alla popolarità di vacca di quel periodo che comunque era abbastanza circoscritta alla scena rap e affini mentre vese fibra era una pop star qui stiamo parlando di quattro pop star oddio certo tra fedezze axe marra gue c'è sempre il minimo di distanza comunque secondo me per quanto marra gue costanteria sono arrivati a tutti secondo me in realtà la distanza la distanza è proprio tra axe e gli altri e tutti gli altri si oddio però fedezze comunque axe fedezze avevano fatto già entrambi i giudici ai talent show c'è fedezze comunque già un bel po che è grande in italia però se se notti io che sono uno che nota molto i particolari nei videoclip nelle cose anche su youtube c'è jx scritto maiuscolo and fedezze scritto minuscolo quindi quello che va a sottolineare negli accordi commerciali che fanno perché poi magari il pubblico pensa che ci sono tante cose che sono molto spontanee in realtà di spontaneo non c'è nulla quando si fanno questi joint album tra questi macro personaggi al tavolo di trattativa si tratta tutto che si tratta il canale dove viene caricata la musica si tratta chi viene scritto prima chi viene scritto dopo chi maiuscolo chi minuscolo chi parla di più nelle interviste se c'è da scegliere uno dei due nomi chi deve andare sono piccoli particolari che però quando si è al tavolo di trattativa si mettono in chiaro perché c'è comunque una gerarchia in quella cosa aggiunge pure una cosa se io e te adesso facessimo un album insieme che va bene tipo santeria senza aver stabilito queste cose litigheremo cento per cento io sono d'accordo io sono d'accordo che le cose vadano messe nero su bianco al tavolo prima di essere fatte anche tra amici proprio per questo discorso che le cose non messe in chiaro sono quelle che dopo se il corso degli eventi prende una piega anziché un'altra diventa un casino per assurdo se le cose vanno male non succede niente cioè per l'armonia è meglio che le cose vadano male perché se poi le cose vanno bene e succede succede veramente il panico penso soltanto a tutte le cose tutto quello che il mondo che c'è relativo ai diritti d'autore di quel progetto è comunque stato un progetto gigante i diritti d'autore io non credo che un progetto di quel genere come magari la gente pensa sia stato fatto con le royalties tutto a 50 e 50 secondo me qualcosa in più ax sempre guarda secondo me il fatto che poi comunque il progetto sia andato anche un po a chiude in maniera rocambolesca non so se l'hai saputa la storia di come si è chiuso il rapporto tra ax e fedez e quello l'ho seguito perché però te lo sparavano anche in tv alle iene ecco il il punto focale credo comunque che sia stato poi che sia chiuso con il concerto di san siro quella cosa al concerto di san siro venne invitato gue e venne palesemente invitato da ax per un passo indietro di ax su questa faccenda e un ragioniamoci bene che in realtà ce l'abbiamo tutti con l'altro ma che poi in realtà quel dissing lì era tra fedez e marrakesh c'è gli altri si sono un po trovati in mezzo capito che toglie di come se tu rappi con uno io gli stiamo io e te e diciamo i soci si tirano in mezzo ma neanche cioè forse si è tirato molto più in mezzo gue dei ax ax è rimasto più distaccato possibile in quasi tua sì però c'è da dire che comunque se sono fatte le squadre e si gioca una partita la partita è sempre tra è sempre tra due squadre contro poi se vogliamo se vogliamo distruggere questa cosa ma anche distruggere le squadre infatti una squadra è stata distrutta e allora le cose sono tornate come tra virgolette come erano prima ma penso che comunque c'è un discorso molto cattivo da fare cattivo ma coerente è vero è vero ma giusto rispetto rispetto al tema di cui stiamo trattando qui stiamo parlando di quattro professionisti della musica che i sentimenti non li hanno quando si tratta di lavorare e quindi quando si tratta di lavorare il lavoro deve riuscire bene e l'obiettivo finale è quello quindi penso che se anche siano passati anche sopra anche degli screzzi interni che avevano magari fedezze ax per fare questa cosa però questa cosa era da portare a termine e quindi anche quando ormai magari rapporti lavorativi perché siamo comunque umani erano un po incrinati riuscire a portarlo a portarlo avanti è stato portato avanti come due colleghi di lavoro che non vanno d'accordo ma devono lavorare insieme e questa cosa purtroppo per fortuna è una cosa che magari il pubblico a cui pubblico non dà peso ma noi da tra virgolette addetti ai lavori sono le cose che che capiamo perché ci siamo stati dentro in queste cose quindi lo sappiamo che dovevano farlo dovevano portarlo a termine l'hanno portato a termine probabilmente al live di san siro neanche già si parlavano più però il professionista riesce a essere glaciale a dire ti cazzi della simpatia antipatia che ho col mio socio è un mio amico nel caso specifico da quello che mi è sembrato te capì io pure non è che so top esperto a riguardo poi magari di me pure voi in chat se ho capito bene o no ma tipo in un qualche modo era già sciolta la c'è ax era dentro un utopia che comunque una cosa che avevano creato insieme ax era uscito dagli utopia però in segreto era l'extreme record dei famosi era e praticamente ax prima del concerto tipo un paio di giorni prima è uscito dalla società però senza farlo sapere a fedez perché dice che se gli avesse detto fedez avrebbe annullato il concerto a san siro quindi diciamo fedez da con la maturità potremmo di di persona un po più adulta con quei vent'anni di più quasi però forse è uscito dalla società e se ne è aperta una sua parallela perché secondo me in mezzo c'erano anche questioni di booking questioni di altre cose rispetto utopia nel pacchetto generale anche perché in mezzo c'era anche rovazzi in questa cosa praticamente il trip è questo gx e fedez creano utopia insieme unendo le forze poi in un qualche modo fedez esce da utopia se crea una sua realtà parallela c'è un po tipo bill gates alla apple in poche parole che bill gates lavorava per la apple è uscito e si è creato windows sparallelamente una cosa del genere stava fax senza dire niente è stato fatto sto concerto di san siro e poi a fedez si è stato detto ciao bro più o meno poi ci sono anche tutte le sfaccettature di dispettini e dispettucci che magari sono cose reciproche perché comunque stiamo parlando di due grandi personaggi quindi con egocentrismi grandi entrambi quindi non c'è mai una ragione mai un torto perché magari fedez dentro di sé si sentiva anche lui il personaggio del decennio più di ax e altri c'era sti cazzi io sono il personaggio del trentennio e quindi se anche adesso tu hai un po più numeri di me però comunque la storia parla per me quindi non puoi neanche classificare o decidere arbitrariamente chi dei due avesse veramente il timone della cosa sicuramente per il mio punto di vista è chiaro che l'esperienza e la malizia di chi riesce a stare in questo gioco per 30 anni è sicuramente di uno che è un esperto del settore di un professionista al di là delle scelte artistiche però resistere per tutti questi anni ti porta ad avere uno status anche superiore ma questo è il mio punto di vista magari invece per la generazione non dico neanche l'ultima ma quella un po middle quella che adesso hanno 25 30 anni magari vedono fedez come quello che è stato più in hype e vedono l'altro come un un dinosauro capito però per come la vedo io io vedo che se dai primi 90 siamo ormai negli anni venti inoltrati axe sempre resistito e perché probabilmente ha delle skills ed è resistito anche delle epoche a dei cambi di comunicazione a dei dei cambi di linguaggio in cui è riuscito sempre a fare il suo e con qualche basso anche in mezzo nella sua carriera perché ha avuto comunque alti e bassi non sempre ma possiamo dire cioè a parte il periodo quello lì staccato dagli articolo 31 iniziale che è stato leggermente sottotono però a parte quello poi è stato in ripartenza continua poi si è associato ai dopo un disco flop il disco flop è di sana pianta di sana ma meva che flop comunque sono sempre disco d'oro dei copie fisiche no dei spotify cioè non al non magari rispetto a flop per i suoi canoni flop per i suoi canoni ma comunque però nel 2021 axe nel momento della maggiore di pop la popolarità più alta della sua carriera ax ce l'ha adesso sì che guardiamoci in faccia ok gli articolo ma ai tempi degli articolo 31 c'era ramazzotti primo chiarissimo anche con le vendite eccetera quindi quella roba è una cosa iconografica però se vogliamo parlare veramente di blasone incassi introiti pubblicità partecipazioni televisive mai come adesso axe è stato popolare chiarissimo adesso proprio lo conoscono tutti dai bambini ai nonni soprattutto dopo appunto le esperienze come giudice ai talent show quello quella roba comunque che te prende la tua popolarità e te la proprio devasta proprio gli fa così alla tua popolarità e le hit dell'estate vogliamo parlare anche di quelle dell'estate secondo me sono sempre associate al fatto che entrambi hanno fatto i talent show perché se sia fedez e j ax non hanno fatto da giudici secondo me quelle hit dell'estate sarebbero state molto meno hit dell'estate diciamo che è un continuo anche accumulo è un continuo accumulo di sì però quelle botti sono state enormi cioè è un continuo accumulo per tutti però la botta non da fa specialmente loro perché poi quelli che sono andati dopo mi è sembrata che la novità neanche c'era più bella edo bella gigi bella mero bella andrea bella peppe bella alex bella giuliano bella tutti sai che secondo me non è neanche una questione di chi ci è andato prima o chi ci è andato dopo ma semplicemente di personaggi e volti più adatti a rimanere in testa perché comunque ax è uno che è simpatico ha quella faccia da trascinatore che la butta in cacciare in ridere che comunque è lo zio ha quell'immagine che comunque piace universalmente a tutte le fasce di età provo a immaginare non lo so se anche avessero avuto avessero avuto lo stesso spazio come giudice nei talent un guè comunque guè è un personaggio che non è che va bene a tutti la sua forza è proprio che a metà deve stare sul cazzo e l'altra metà devono impazzire per lui non è questo nell'accumulo ti fa perdere una parte di roba da accumulare perché comunque lui è canalizzato sulla sua metà non sulla la metà che la metà che lo odia non è quella che lo manderà che lo manderà in aip a fare le id dell'estate poi c'è da dire che è anche un personaggio che magari nonostante non so se ha anche fatto il giudice un talent mi pare di sì comunque non ha non ha non ha quella per quella personalità che è antipatica che è più e che è più urban sicuramente è proprio perché è più urban sta più sui coglioni chiaro è meno televisiva meno family friendly comunque bella edo che è diventato papà per la seconda volta fate tutti in chat auguri edo comunque da quello che ho capito io questa storia che è successa ti dico quello che ho capito poi magari me ci aggiungi tu allora pio amedeo sono andati alla rai a riceve un premio sì tipo un telegatto per i più vecchi hanno inventato un premio per far andare più amedeo in tv tra l'altro è pure quella la polemica perché infatti si dice che sto premio se lo sono dati tramite un'agenzia di cui loro fanno parte e vabbè ma è tutto normale cioè a me non è che mi risulta una novità cioè i premi li inventano cioè il rischio d'oro stesso è una roba così eh sì ma infatti è proprio quello del punto che vabbè quello poi ci arriviamo dopo però arrivando al punto sono andati lì e sono stati premiati come innovatori della comicità italiana e poi hanno fatto le frecciatine dicendo sai le classiche parole che qua non si fanno di su twitch tipo offese razziali offese di orientamenti sessuali e tutti ridono però giustamente la cosa assurda è che cioè se sa che a livello televisivo certe cose sono permesse però un bestemmione no mentre invece qua su twitch che è la piattaforma internazionale è più come se posso dire più attenta logicamente alle offese appunto sugli orientamenti sessuali sul razzismo che poi sono cose pure più vere comunque se ci pensi no cioè nel senso io le sento più quotidiane sì ma pure molto più pesanti molto più attuali che l'offesa alla divinità che va a capire cioè è roba da boomer è roba da boomer infatti in televisione se fai la bestemmione ovviamente sei bannato forever mentre invece appunto come si può dire l'epitaffio così un po insultante verso categorie se può fa perché in italia non c'è potete io ti apro e chiudo una parentesi come è possibile che nel 2021 ci siano ancora programmi tipo tale quale show dove si truccano come il cantante e che queste robe funzionano però che funzionano perché sono proprio fatte impacchettate per quel target di vecchi che hanno visto la tv in una maniera per una vita e devono con il 90 80 e piuttosto guardano la gente che si maschera e che ricanta little tony piuttosto che vivere nel presente se io questa qui è una cosa che di cui non mi capacito ma che però è una cosa che funziona io mi immagino che a 60 anni io non vorrò vivere nel 2020 ma il discorso è che il 2020 non esiste perché anche su internet comunque su youtube qua su twitch i format che vanno per la maggiore sono quelli che strizzano l'occhio a quelli televisivi quindi il format alla barbara d'urso in cui cese litiga la gente che si traveste da personaggi famosi e va a trolla piuttosto che a reinterpretare con le cose cioè il linguaggio è lo stesso non mi pare che internet sia poi però più giovane da tv però il linguaggio barbara d'urso con le litigate in tv è comunque impacchettato in una maniera fresca perché comunque tratta l'attualità c'è la signora di mondello non ce n'è covidi cioè è un po un social boom ok fa quello che succede chiamano i quelli del momento mentre vedo proprio il rai invece c'è proprio un modo arcaico superato di fare quella rai e la televisione popolo nazionale mentre media per quanto può sembrare uguale comunque rimane sempre una rete privata quindi hanno proprio un peso differente nel vedere le cose però in generale comunque a me mi sembra che sto 2020 non esista poi tanto cioè che ste nuove generazioni non si distaccano poi tanto si dicono boomer cringe so cambiate le parole e le marche delle magliette i tagli dei vestiti un po il sound ma quello che muove poi alla fine l'energia del tutto sembra sempre la stessa cosa infatti c'è questo discorso che apriamo e chiudiamo la parentesi che mi spieghi il fatto di pio e amedeo è che fondamentalmente chi dice che la tv è morta in realtà non ha capito che la tv è il motore di tutto il resto ancora una volta sì perché comunque è inutile ragazzi guardiamoci in faccia chi è che sta facendo i dischi di platino san giovanni che esce da amici chi è che sta facendo chi è che vince i festival di sanremo quelli che escono da amici quindi sai cosa ti dirò di più noi ragazzi ti diranno no perché pure salmo ha fatto il disco di platino calmo colmo e chilmo che è vero perché in questo momento nel 2021 la gente che è nata dal web ancora continua a essere in qualche modo capito è togliere rilevante vedi cali vedi sfera e tutti sti nomi qua però io ho notato che effettivamente con blanco ok arriviamo un attimo al capitolo blanco c'è blanco a mia opinione poi so che tu sei mega attento su ste cose quindi mi dirai un po di più è il primo nome dopo più o meno 15 20 anni che in italia esce fuori senza passare da talent show o comunque da un successo sul web come si può dire autoprodotto cioè tutti questi qua salmo sfera si sono fatti le loro robe sul web hanno preso attenzione e poi dopo hanno fatto scopa con l'etichetta uguali ragazzi che escono dal talent cioè era tanto che non si lanciava qualcuno così a scatola chiusa secondo me è una scatola chiusa tenuta chiusa di proposito che magari nessuno sa chi sia questo blanco nessuno sa la sua vita precedente magari comunque ha fatto 17 anni sto ragazzo quindi la vita precedente se fa pure fatica però la vita presente può essere l'anno prima quando non si chiamava blanco magari qualcosina aveva fatto e magari è stato costruito un progetto proprio su di lui del tipo nessuno sa chi sei ma va bene così se noi ti lanciamo ti spariamo subito alle stelle e lo facciamo senza appoggiarci a quegli altri così comunque gli introiti rimangono in casa e non abbiamo niente da perdere perché comunque se la cosa non andava quant'è che non succedeva una cosa del genere è tantissimo c'è un progetto alla blanco sia prendiamo uno che ci piace ci piace funzioni ti lanciamo vanilla ice no no ma dico in italia parte all'estero sì 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 in italia che abbia fatto da 0 a 100 ovvero che un personaggio si trova sparato lì senza sapere chi sia senza sapere cosa ha fatto e fatto strano nessuno se lo chieda anche perché vedi in chat maurizio dice anche madame è uscita così però maurizio non ha chiamato nulla e non sa quello che scrive perché in realtà sappiamo tutti che madame ha fatto successo col primo pezzo che ha pubblicato che è stato spinto pure dagli arcade boys tutta una serie di cose cioè nessuno ha fatto come blanco esco col pezzo con salmo vai boom è quello il fatto cioè esco già direttamente con sfera direttamente già con un e maurizio continui a scrivere cose a caso perché pure anna invece ha fatto successo con bando che è uscita è diventata virale e poi da lì è stata spinta dalle etichette quindi il discorso è proprio prendere uno che non esiste prenderlo e lanciarlo subito nel mercato dei big senza che si fa lui una cosa autoprodotta e senza fare l'uscita talent è qualcosa che non succedeva in italia da un botto di anni è però comunque è stato un progetto su cui magari ci hanno puntato ci hanno lavorato altre persone chiaramente perché se il ragazzo doveva fare da solo era impossibile era impossibile anche se partiva direttamente con un budget enorme ma non è comunque comunque poi andare a spingere la roba cioè il punto è che l'etichette da oltre 15 anni non gli andava più di scommette non gli andava non gli conveniva dice scusa se un ragazzo esce dal web fa un singolo due singoli fa 10 milioni di come è successo che mi schilla cioè mi schilla faceva le sue robe poi ha fatto il pezzo quello del mixtape dei fabbri fibra sono cazzi tuoi esploso fece tipo 15 milioni di visualizzazioni subito è arrivata la carosello perfetto cioè basta che noi ci mettiamo dietro la nostra macchina e facciamo scopa no uno più uno gli facciamo gli facciamo fare i concerti i dischi d'oro vengono automatici il ragazzo già è seguito non dobbiamo lanciarlo stessa cosa è successa con fedez e poi dopo cosfera con gali eccetera ed è una cosa ed è una cosa che fanno più o meno tutte adesso nel senso prendono chi è in hype non chi è secondo loro talentuoso che loro prendono chi ha già il pacchetto di numeri completo come dice il giovane malandrino soltanto dare una spinta ulteriore non hanno manco avuto la voglia nel bisogno di costruire una mini scalata lo hanno semplicemente piazzato là io lo so che chi ce segue è distratto la maggior parte però fidatevi che questo qua è un cambio esagerato cioè questo qua significa una cosa nella storia della musica italiana clamorosa significa che non ci hanno più bisogno di farti fare la scalata da autoprodotto o di lanciarti tramite il talent show cioè all'etichetta è tornato il potere che c'era prima di internet quello di prendere una nullità e lanciartelo in faccia non una nullità di talento sia chiaro una persona senza nessun tipo di seguito e lanciarlo subito boom piazzartelo lì come dice il giovane malandrino direttamente questa cosa non succedeva da un botto di anni raga cioè una cosa che questo significa che verrà dato sempre meno spazio ai giovani che usciranno non c'è più bisogno che tu te crei il tuo personaggio piano piano capito te fai la mini scalata poi te la fai carriare da loro no no adesso ci piace questo è bello intonato via vai funzioni come era con Ramazzotti con Tiziano Ferro è qualcosa di enorme secondo me sai che da un certo punto di vista sono contento perché in realtà a me questi cambiamenti piacciono perché quando poi ci si appoggia su uno schema per la riuscita diventa la normalità e si trovano gli inganni all'interno di uno schema quando lo schema è già rodato tipo il web dopo un po' di tempo si conoscono le dinamiche si creano anche gli inganni e quindi diventa anche dopata come roba questa cosa qui magari questa cosa del lanciare i talenti o comunque quelli che sono visti come talenti anziché lanciare chi ha i numeri potrebbe far concentrare le persone sul fare musica di qualità anziché sull'andare alla ricerca dei numeri per farsi notare farsi notare perché si è bravi anziché farsi notare perché si hanno i numeri allora mo parliamoci chiaro ok non so da dove arriva Blanco se l'hanno pescato da è un cugino di qualcuno che lavora in Universal se qualcuno si è fatto un viaggio su Soundcloud ha trovato sto pischello però effettivamente il ragazzo a livello vocale è bravo cioè sull'attualità di quelli che sono gli interpreti della musica urban cioè il ragazzo è bravo non si può dire niente poi dopo di lui ne usciranno magari un miliardo molto più bravi ma in questo preciso momento lui è bello quindi hanno fatto bene a fare sta mossa addio sto ragazzo funziona spacca lo mettiamo un pezzo con Salmo un pezzo con Sfera e vai è andato no non è normale però questa cosa non succedeva da un botto di anni che non c'avevano il coraggio sono contento di questa cosa qui sono contento di questa cosa qua perché dopo ormai 15 anni abbondanti ci siamo anche un po' rotti il cazzo del sistema web punto beh sì perché effettivamente come hai detto te è una certa sono saliti contemporaneamente Sfera e Dark Polo Gang che non ci prendiamo un giro comunque il primo progetto Crack Musica è per davvero sono due cose opposte cioè Crack Musica è innovativo divertente, irriverente tutto quello che te pare però comunque è antiradiofonico mentre invece per davvero mostrava le potenzialità radiofoniche pop de Sfera ma quelli che vedevano i numeri alle etichette non capivano più un cazzo cioè per loro era oh questi sono i giovani che funzionano prendiamo, lanciamo poi vediamo che succede tanto comunque sono soldi che già ci abbiamo siamo colossi tanto continuiamo a guadagnare chi se ne fosse esatto però magari comunque fallo arrivare Alex te prego fallo arrivare comunque arrivare al punto in cui non c'è più bisogno di impazzire sul web a cercare di capire cosa piace ai giovani perché gli piace se può essere traducibile in un mondo mainstream fa un culo tutto ciò rimanete a fare le vostre robe drill sul web fate a gara che è più gangsta che in radio ci mandiamo le robe fatte da noi suonate tutto il resto in realtà anche perché il successo di Blanco ha dato proprio una pista 10 a 1 ai fenomeni del web di quest'anno nel senso che tutti anche quelli che sono usciti con la roba drill eccetera i vari baby gang i vari rondo cioè il successo di Blanco è stato 10 volte tanto certo sono proprio due percorsi differenti quello sto a dire cioè mentre prima capito e ho detto io di i percorsi andavano paralleli tra chi usciva dai talent chi usciva dal web meno male poi si rincontravano al top no? e il rispetto per chi brilla non conta da dove arrivi l'importante è faccela adesso nessuno di questi ce la farà più cioè ovviamente chi uscirà dal talent sarà sempre spinto per quell'anno là e chi comunque dal web riuscirà a fare le sue cose troverà sempre un ingresso ma mai più come era prima che c'era ingresso per tutti chiunque sparava una roba che era attinente all'ambiente rap magari con una collaborazione che so un nerone c'aveva una collaborazione di salmo boom disco d'oro vai queste robe molto più difficili che succederanno di anno in anno no anche perché si è saturato anche questo sistema c'è anche questo modo di fare una volta che si è capito che funzionava l'hanno fatto tutti e quindi è come fare è come indovinare è come fare sei al super enalotto in duecentomila persone il bottino dopo va diviso e tiri sulle briciole è così ah ok mi diceva Sergio che presente abbiamo ascoltato no? l'album The Sphere Basta famoso tu l'hai ascoltato? una volta e abbiamo ascoltato anche il featuring The Shiva con Lil Baby che c'è presente nell'album The Shiva e mi sono accorto che le strofe sono registrate ma male ma di un male talmente clamoroso che ci sta un volume per l'artista italiano e un volume molto più basso che è il massimo che sono riusciti a pompare la voce per non farla distorce fatta eccezione invece per Lil Mosi nell'album The Sphere che infatti quando l'ho ascoltato era l'ultimo featuring straniero ho detto oh finalmente qualcuno gli ha mandato la strofa fatta bene e ipotizzavo che Lil Mosi da meno famoso più giovane rispetto a Future chi cazzo era quell'altro manco me lo ricordo comunque quelli è Offset gli hanno dato proprio le strofe proprio tiè registrate col telefono proprio una vergogna e invece dice che Lil Mosi l'ha registrata proprio a Milano e si sente infatti che era registrata alla qualità cioè decente ti dico che ho capito subito che era la stessa qualità uno stesso studio perché non c'ha quel tipo d'orecchio però te ne accorgi che quelle The Offset e The Future sono una vergogna ma ripeto per chi ci avesse problemi a capire quando uno parla non una vergogna a livello stilistico dei rim e dei flow di registrazione sì sì anche perché dai diciamoci la verità cioè a registrare una strofa decente uno se la fa anche in casa se l'hanno fatta che fa veramente schifo perché l'hanno fatta a dozzinale perché hanno detto tanto è una strofa per l'Italia chi se ne fotte questo è il loro pensiero ti posso dire più invece ti posso dire più io l'ascolto la roba The Offset è più The Future che The Offset se sono onesto però mi ragazzo ascolta un botto micos Offset mixtape chicchette quindi sta roba americana l'ascolto molto e ti dico che loro in realtà c'è un disco The Future è tutto registrato come la strofa del sfera e basta tu tranne il singolo e il singolo magari lo vanno a fare in studio perché ci devono fare videoclip ma il resto è marcissimo cioè a loro gli piace proprio così e funziona così quindi il problema qual è? è che sta trap italiana è troppo pettinata per voler collaborare con quella americana perché quella americana è spettinata le sue quando le metti insieme ti accorgi proprio che tu hai fatto una cosa super pettinata e quelli ti hanno dato una cosa spettinata ma no per fattelo a dispetto quelli registrano proprio così la fanno proprio così la fanno proprio così cioè tu ascolti la roba a boogie with Audi pure i pezzi su i primi pezzi quelli che hanno fatto sono delle marciate a livello di registrazione ma clamorose ma sì ma anche la roba la Gucci main così roba che comunque non è che abbia la qualità la qualità audio ma perché comunque la concepivano come buttiamo fuori il tape fatto così ma tanta roba marcia uno dietro là un mixtape dietro l'altro e hanno tenuto quel concept lì anche per gli album poi chiaramente se hanno delle etichette dietro che comunque devono fare il singolo con il videoclip eccetera gli chiedono di fare quella roba fatta un po' meglio di di patinarsi un attimo ma tu ascolta un disco The Future te ne rendi proprio conto c'è sta il singolo che suona in un modo e poi il resto dell'album è proprio home made fatto un casa al volo chi se ne frega cioè capito e togliodì alla fine è mood cioè io sai che sono uscito da sta roba qua prima l'apprezzavo questo modo di fare questo modo di fare i tape le cose però adesso siamo arrivati a un a un punto dove il il mercato musicale è talmente saturo di prodotti che quei pochi che mi ascolto voglio ascoltarli bene voglio che si senta che sia figo che suoni bene tutto la strumentale le voci che sia una cosa interessante che ci avviciniamo ai musicisti invece di allontanarci che ci avviciniamo a chi fa veramente musica invece di allontanarci ed essere considerati quelli che fanno le cose male sai che sono proprio mercati differenti secondo me cioè è chiaro che comunque anche la drill ah io ho notato una cosa l'hai mai visti quei video che fa cicalone in cui va nei quartieri io sono fan quello l'hanno visti chiunque quanto quella roba è uscita insieme alla drill c'hai mai pensato che so correnti che so sì 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 in contemporanea cioè è anche giusto che in Italia comincia a esistere uno street rap che non è mai esistito cioè quindi ci saranno i ragazzi dei quartieri che peccazzi loro in cantina si faranno uno street rap fatto dei dissing capito e togli odì meglio il lito mio del lito tuo e poi non so se te l'hanno ammazzate su clubhouse chattano e ammazzate vere e se ne danno più logicamente però comunque diventa diventa un panorama al di fuori della musica esatto un panorama al di fuori della musica un panorama un'altra cosa quasi veramente un'altra cosa una musica autoprodotta in cui c'è se insulta meglio il quartiere mio del tuo robe così siamo più coatti noi e non troverà mai spazio nel mercato musicale vero magari può essere che ne esce uno che magari è pure intonato è pure belloccio e allora boom magari lo puoi spostare però è difficile non si prenderanno i palchi delle piazze però è difficile rispetto alla trap che appunto era proprio melodica c'è la trap era un new pop specie in italia no c'è fatta eccezione per le parentesi più dark polo gang più crude e il resto comunque si sposava proprio con non so come di più che con la musica tradizionale italiana con le sigle dei cartoni animati sì sì c'è la trap è praticamente con i pokemon sì è proprio le robe di Giorgio Vanni c'è autotune chissà questo un po' anche l'eurodance l'eurodance dei primi 2000 chiaro la trap è quella roba lì la trap italiana è quella roba lì sì sì ma infatti me l'ho andato poi a risentire ma da anni poi cosa resta e sfer e basta è quella roba lì sì sì ma pure Too Much of Heaven che era proprio Too Much of Heaven che dava il titolo all'album degli FS65 in cui c'era blu che poi tra l'altro è stata ripresa da Shiva cioè vedi che le analogie sono molte più di quelle che uno si possa immaginare tra l'eurodance e possiamo anche dire senza provocazione ma proprio come dato di fatto che quello era veramente il sound italiano quello di quegli anni lì era veramente il sound italiano che se non fosse stato demonizzato sarebbe stata proprio una cosa che a livello internazionale ci avrebbe fatto riconoscere in tutti i generi che avrebbero attinto da quel tipo da quel modo di usare i synth da quel tipo di batterie da quel modo di usare l'autotune comunque Gigi D'Agostino F65 Gigi D'Agostino F65 in quell'anno hanno fatto cioè hanno comandato a livello mondiale ed era un sound italiano chiaro c'era riconosciuto come sound italiano da cui un po' tutti hanno rubato sia in Italia che all'estero hanno rubato dal sound dell'Eurodance dei primi 2000 è roba che è ancora figa oggi perché se te lo ascolti è invecchiata benissimo quella roba lì chiarissimo ma il punto è proprio che volevo sottolineare è quanto la trap italiana alla sfera e basta Drafgold Shiva è molto più vicina all'Eurodance e alle sigle dei cartoni animati che all'idea dei rap è proprio una via di mezzo in realtà perché attinge tanto dal rap quanto paradossalmente da quel sound là no sai cosa ha di simile al rap quella roba lì ha soltanto che dal vivo c'è uno che fa play e un altro che sta da quella è la roba per cui viene mescolata con il rap ma in realtà è veramente più simile all'Eurodance alle sigle dei cartoni animati come roba vediamola in mezzo un po' anche anche perché comunque musica da giostre capito agli autoscontri agli autoscontri nelle fiere nelle cose paesane adesso c'è Sfere Basta prima c'erano gli FL65 non c'è mai stato il rap no e quindi ti fa capire che quel filone di musica tamarra musica anche spensierata con testi che non devono raccontare chissà cosa è comunque tutto riconducibile a quella roba lì c'è il rap è proprio un'altra cosa se per quanto vorrei cercare anche di amplificarla però sostanzialmente è così comunque il giovane malandrino ti dice che rap e trap si deve avvicinare la musica fatta da musicisti tanto vale ascoltarsi direttamente la musica pop dance perché comunque il rap nasce sporco effettivamente a quel punto non so a quel punto secondo me la dico io intanto la mia a quel punto secondo me cambia un po' l'approccio testuale perché la musica diciamo più pop c'ha più il testo tipo più bella cosa non c'è più bella cosa di te cioè quindi d'amore generalizzato molto pulito mentre l'urban già Max Pezzali già Marco Masini erano più urban come visione perché c'erano dei testi che parlavano un po' più anzi forse erano più urban loro di molto rap che dice c'ho le barre scimitarre con torte col flow che delle porte che alla fine diciamo che cazzo sta di qui io e la mia crew siamo giù col vudù diciamo che cazzo sta di cioè quindi quella era molto più bella mute bella a tutti ma infatti quella roba che ha funzionato tra gli amanti di rap perché gli 883 Marco Masini ma lo stesso Antonello Venditti cioè era comunque roba era roba urban come contenuti nonostante Venditti facesse canzoni d'amore però le metteva giù in una veste che raccontavano comunque sia i quartieri la quotidianità le difficoltà la gente con le sue quotidianità lavorative i begli sbattimenti cioè comunque stava in mezzo la gente stava nel popolo il pop invece il pop invece di cui si parlava prima era un'altra cosa cioè Ramazzotti era 12 canzoni di amore random dove al centro veniva messa comunque l'abilità vocale del cantante nel riuscire a intonare certe robe e nel rimescolare sempre in realtà Ramazzotti se tu lo recuperi i primissimi album sono proprio il contenuto che vorrebbe l'ascoltatore del rap italiano quindi una roba de strada però non gangsta quindi tipo capito dove qui non passa più manco la polizia come era là no nato ai bordi di periferia però sono un bravo ragazzo no però noi con l'approccio urba abbiamo anche voglia di abbiamo principalmente voglia di sentire cose che non possiamo sentire da altre parti chiaro un approccio differente da quello un linguaggio che ci faccia dire sì cazzo è vero ma non è lo stesso sì cazzo è vero che funziona per tutti in televisione è una cosa più per noi però forse questo più è un urban di controcultura di qualche anno fa l'urban di oggi non mi sembra più così diverse sfaccettature ma anche il racconto di una stessa cosa c'è un modo per raccontarla in una chiave urban è un modo per raccontarla in una chiave politically correct per me può essere estremamente urban anche il testo di un pezzo reggaeton che dice comunque quattro cagate in croce ma se sono dette comunque in una maniera urban è un pezzo urban e quindi si avvicina anche ai miei ascolti il discorso è che la parola urban ognuno lo associa a un significato un po' come la parola rap hip hop trap drill ognuno nella propria testa sta pensando a una propria cosa quindi io dico no perché per me la drill spacca se fatta conscientemente ognuno capisce una cosa sua c'è chi pensa che stai a parlare come utilizzi i suoni c'è chi pensa di quello che devi scrivere cioè ognuno ha proprio il viaggio suo quindi è difficile però io ho capito che intendi tu per urban se intende per pop un testo che piace anche a una nonna ok proprio pulitissimo proprio cioè tipo amore nei tuoi occhi blu vedo il mare blu per me ci sei solo tu quello è proprio pop sole, cuore, amore dammi tre parole sole, cuore, amore è il pezzo pop per eccellenza già una cosa invece che dice che cazzo ne so tipo t'ho vista su tiktok t'ho scritto su whatsapp già quello è urbanissimo è chiaro perché parla il linguaggio del popolo cioè tu dici magari ho visto i tuoi occhi blu su tiktok poi è la spunta blu su whatsapp che cazzo ne so su instagram cioè riutilizzi magari le stesse formule stai dicendo la stessa cosa occhi blu per me ci sei solo tu vado su youtube per me ci sei solo tu però mettendola in una chiave più giovanile già è urban anche secondo me è così già si avvicina più all'urban chiaro anche secondo me ma secondo me già quello è urban perché se poi mi cominci a parlare il mio fra muove i g capito e toglie di già per me quello è sub-urban forse anche perché diciamoci la verità i testi anche dei cantanti dei cantautori che erano più gli urban i nostri nonni non c'è capito un cazzo nessuno ascoltavano la melodia e le tre parole che riuscivano a capire il resto non l'ha mai capita neanche loro la roba perché io vorrei interrogare anche gli ascoltatori di vecchioni venditti eccetera loro non ci hanno capito un cazzo della roba se loro hanno le melodie in testa e hanno quelle tre parole dei ritornelli ma dei testi non ci hanno proprio mai capito niente però era una roba che era fatta bene sia da quel punto di vista lì e quindi poteva piacere arrivare a piacere anche a noi guardate faccio due esempi che eravamo i giovani però per come era per come era fatta a livello proprio di sound di cantato arrivavano a loro chiaramente ti voglio fare due esempi uno moderno e uno iper boomer parto da quello iper boomer quello moderno lo tengo dopo allora prendi una donna trattala male Marco Ferradini teorema di Ferradini tutti pensano che quella canzone dica prendi una donna trattala bene ti mette le corna prendi una donna trattala male e lei rimane con te e invece ha tre strofe dove una una parla che praticamente prendi una donna trattala male eccetera e sei un figo così la seconda dice il contrario e la terza in realtà dice che non c'è una regola tutto va come un po' come viene no nella terza in realtà se scopre cioè c'è anche a me della scrittura lo sai mi piace quando è complessa cioè quindi anche quando va a sfiorare lo storytelling senza diventare completamente quindi qua parte così dice prendi una donna trattala bene bla 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 e lei alla fine te lascia quindi dici cioè sembra all'inizio che sta a i consigli per ditte come conquista una donna quindi trattala bene fai tutto così e alla fine il plot twist te frega e te dice lei te lascerà poi dici trattala male tutto così e ti andrà bene e alla terza dice no caro amico non è vero quello che dici tu parli perché sei ferito invece non è così non c'è una regola e è l'amore che vince ma sta terza strofa non l'ha mai sentita nessuno cioè per l'Italia quella canzone dice semplicemente la donna cioè anzi penso che l'italiano medio se si è approfittato di questa canzone per far leva sul proprio maschilismo e dire no le donne vanno trattate male perché cazzo e cazzotti le donne vanno trattate male perché quella canzone lì dice così quindi rafforza la tesi di quelli che dicono ebbè ce lo dice anche Ferradini nella canzone e questo è proprio per confermare quello che dicevi che quelli degli anni 80 ci hanno capito un cazzo no 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 non ci hanno mai capito un cazzo dei testi ma neanche neanche quelli prima cioè quello lì è un pezzo che è geniale c'è capito ma non ci ha capito un cazzo neanche la generazione che l'ha fruito ma ti dirò di più faccio un'altra parentesi o mamma mi ci vuole la fidanzata degli articoli 31 quindi dei J-Hacks è la stessa formula perché per tutta la canzone lui dice mamma dice che c'è una fidanzata effettivamente c'ha ragione e poi la terza dice ma no alla fine voglio continuare a vivere così da uomo libero tanto ogni donna è una mamma capito però di quelle canzoni rimane la frase fulcro quindi di Ferradini rimane per di una donna trattala male fine è già finito il testo per l'ascoltatore per l'italiano medio è finito lì per di una donna trattala male perché è giusto così perché così poi le cose andranno bene perché se no sei un debole e sei un fallito come quando alle gare dei freestyle cominci e dici fanculo la polizia e neanche ti fanno finire la rima capito perché tanto bastava quello no quindi tu fai solo la frase d'apertura e tu ti pepepe e non finisce la rima cioè tu fai la seconda rima che avrai la rima più bella del mondo capito cioè però nessuno l'ascolterà mai perché invece come fa se dobbiamo anche testare il grado di stupidità del pubblico alle battle di freestyle anche lì cioè delle volte sono talmente prevedibili che conviene ai fini ai fini del del grandimento cioè magari uno avrebbe dei trick in testa da fare tira fuori robe che non verrebbero capite piuttosto si punta ad accontentare il pubblico dai branco di idioti cosa volete che dico bruciamo le chiese e si urlano chiaro si si fumo una canna ti scopo la mamma prima del secolo comunque ultimo esempio che volevo fare rimanendo su sto argomento era swishol blanta swishland della supreme che palesemente è non so metà un po' più della metà che dice non capisco un cazzo non dice un cazzo così e quell'artre che capiscono che sta a parlare swish ordi giro il joint il blanta al posto del joint capito visto che comunque si parla sempre di canette nel rap italiano è bastato cambiare la parola chiave quindi invece che canna joint with dire blanta e si è potuto ripetere la stessa cosa alla fine di maria salvador è una roba nuova ed è una roba nuova e si è ma te lo ricordi il singolo un po' flop dei club dog o sgrilla chiaro che me lo ricordo sgrilla vabbè sgrilla non fu flop forse è più la vita è una puttana beh la vita è una puttana ok sgrilla funzionò hai ragione è la stessa è la stessa dinamica hanno usato sgrilla solo in quel contesto lì mai più usato però in realtà è sempre il solito pezzo che parla di figa madonna però l'han chiamata in un altro modo è una roba nuova chiarissimo però ecco sempre rimanendo un po' alla poca attenzione anche perché poi diciamo che ci sta una piccola frangia del pubblico generale che ci mette un botto d'attenzione sui testi cioè ogni virgola guardano cioè per esempio l'altra sera no? abbiamo ascoltato l'album de Blanco e anche quello del Comi ok no? e comunque i ragazzi non facevano passa a niente cioè addirittura i ragazzi sono rimasti un prezzo che faceva paura chiusura rottura cioè rideva perché per lui erano troppo banali come parole da usare in una canzone per rimare capito? chiusura paura rottura cioè che rime so cioè devi usare come minimo capito? non lo so clistitroide truplicoite ruzzone cioè forse ora solamente senti parole innovative con cui chiude le rime no? quindi comunque quello non va bene non va bene niente cioè sono ipercritici però poi arriva bello figo e scrivono tutti ah genio mito king ovviamente scherzando e ridendo però comunque mi sembra che a bello figo è permesso tutto non è richiesto niente mentre a tutti gli altri non va bene niente qualsiasi rima fai non va bene capito che te voglio dire qualsiasi cosa dici non è mai abbastanza si spaccia per uno che non prende sul serio le cose però in realtà le prende sul serio però nel senso però comunque lui non si prende sul serio quindi fa ride e però comunque ha fatto le date cioè comunque ha i pezzi che gli fanno si prende sul serio da quel punto di vista monetizzati cioè comunque lui ci ha svolto molti più soldi di gente che lo fa seriamente che però non viene presa perché dice no cazzo hai chiuso capito e togliati fogli con scoglie una rima banale rabbia con sabbia sì quindi non devi togliere tutte le parole che esistono e rimare solamente non lo so con Nedved Ibrahimovic parole straniere perché giustamente quelli italiani le abbiamo già tutte quante però no parole nomi conosciuti Windows sì sì ormai le parole della lingua italiana non si possono più usare lo capisco che c'è una frangia che giustamente c'è io pure da scortatore del rap da di vecchia data l'ho un po' sentite tutte le formule magari ecco L dice a bello figo è concesso con quella chiuderà con successo eccesso accesso cesso me stesso sesso e sai quelle 6 chiusure con esso c'è è difficile che qualcuno capito e togli odì te trova una formula diversa c'è è veramente raro che qualcuno te stupisce col gioco proprio della chiusura della rima in sé no sì paradossalmente è più facile che uno mi stupisce dicendo una bella frase con cuore amore rispetto che cerca una formula più complessa almeno a me che so di vecchia data però capisco che magari uno nuovo sì poi dipende comunque ci sono tante formule che per noi c'è tante robe che per noi sono stra abusate che poi magari in realtà non sono usate da un po' di tempo se uno riprende a usarle sono formule che per la gente sono nuove chiarissimo proprio magari c'è un modo di fare le robe che viene usato per un periodo poi viene accantonato poi viene accantonato e quindi c'è un buco temporale poi viene ripreso noi non lo riprenderemo generalmente perché diciamo è una roba di un tempo ma in realtà per quelli nuovi è una novità e quindi viene magari riutilizzato e riabusato ed è considerato modo di fare giusto per l'epoca assolutamente ci sono mille sottotrame dietro le cose che succedono che però uno ce deve aver buttato l'occhi prima perché se ce li butti al momento in cui una cosa esplode è impossibile riuscire a capire quello che c'era prima così invece noi che siamo fatti tutto il percorso le notiamo proprio ma come il periodo tipo che si faceva i quattro quarti che andava di moda tipo saluto mio fratello cane secco lo vedo fumare sul divano poi lo aspetto e lo vedo cagare dentro un secchio speriamo domani mo lo chiamo cioè c'era quel modo di chiuderla di chiuderla la la tre sulla uno e la due sulla quattro che è andato di moda per un periodo adesso sono tornati a farlo ma ma ci sono stati sette otto anni in cui non lo faceva più nessuno la famosa metrica A B A B è capito quella che cioè che nella battuta delle due non la chiudi neanche perché poi dopo la vai a vai a chiudere la prima nella terza però sono robe che noi abbiamo viste tutte queste noi abbiamo visto troppe formule io seguo un canale dei ragazzi che parlano dei videogiochi no cioè i conosci studenti io Tobi quei due sul server e hanno un canale tipo con un altro amico loro che si chiama Sabaku che parlano dei videogiochi che si chiama Old Gen quindi tipo che capito tipo come noi sul rap no e ho visto uno che gli diceva raga voi avete visto tutto cioè non vi sorprende più niente e qualsiasi cosa che esce per voi è solamente un rimaneggiamento di qualcosa che c'era prima effettivamente noi con il rap con la musica urban siamo così per noi qualsiasi cosa esce è tutto un rimaneggiamento